Il futuro dei nostri ragazzi è avere la capacità di ridistribuire in modo più attento e puntuale il valore economico all'interno della filiera stessa. Purtroppo negli anni passati questo spesso e volentieri non è avvenuto, dove l'agricoltura ha sofferto maggiormente rispetto ad altri settori produttivi, penso all'industria, penso alla grande distribuzione, penso a tutto il mondo orecca. Oggi c'è una necessità, quella di ripartire dal lavoro fatto all'interno delle imprese e per poterlo fare noi dobbiamo avere anche la capacità di innovare, di investire per quanto riguarda l'utilizzo dei dati, per quanto riguarda l'agricoltura di precisione, per l'utilizzo di tutte le tecnologie che ci verranno messe a disposizione, ma ripeto, per poterlo fare dobbiamo ottenere un maggior reddito rispetto al lavoro che svolgiamo, che è di grande attenzione anche sotto un punto di vista ambientale. Anche questo non può essere sottovalutato. L'agricoltura è un'opportunità per l'intero paese Italia. Grazie all'agricoltura si muove un'intera filiera che genera 580 miliardi in termini di valore, con 4 milioni di occupati. 60 miliardi è un record assoluto per quanto riguarda l'esportazione di agroalimentare a livello mondiale, ma anche sotto questo punto di vista possiamo fare di più. Da oggi noi vogliamo porre al centro proprio una strategia nuova che ponga un'attenzione particolare proprio ai giovani imprenditori.